ciao amici a chi capita di essere sempre in ritardo la mattina io sono sempre puntualissima ma è squaletto che mi fa fare tardi e voi amici siete mattinieri e puntualissimi o ritardatari cronici fatemelo sapere nei commenti e votando il sondaggio che trovate nella piccola i qui in alto oggi vediamo insieme alcuni trucchi inaspettati che funzionano davvero per essere più puntuali alla mattina e finirla una volta per tutte di essere sempre in ritardo se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video prima di iniziare ci tengo a dire che perché qualunque cosa funzioni dobbiamo desiderare che la situazione cambi non fa una piega bene cominciamo 1 a letto presto andare a letto entro la mezzanotte garantisce la migliore qualità di sonno anzi entro le 11 o le 10 ancora meglio lo dicono numerose ricerche scientifiche se il riposo è rigenerante è più facile alzarsi quando suona la sveglia invece di mettere la testa sotto il cuscino 2 preparare l'indomani più cose della mattina prepariamo alla sera meglio inizierà la giornata alcuni esempi l'outfit della giornata il pc la borsa della palestra il cambio la colazione le chiavi di casa e dell'auto senza diventare maniacali un po di organizzazione aiuta 3 niente smartphone e per la sveglia viva i classici secondo le ricerche la sveglia meccanica è la migliore amica di un risveglio pronto e puntuale questo per due motivi uno non ha la funzione snooze 2 ci libera dallo smartphone la sera la luce blu dello schermo disturba il sonno e i contenuti social video eccetera eccitano il sistema nervoso fuori orario ne ho parlato in maggiore dettaglio in questo video che vi consiglio di guardare dopo 4 persiane a metà bisogna dormire lontano da luci è vero ma studi dimostrano che il risveglio è più graduale se un po di luce naturale filtra dalla finestra allora squaletto ora sarai puntuale al mattino i consigli sono facili e da provare se volete altri trucchetti per iniziare alla grande la giornata potete seguire questa mia morning routine e guardare la playlist con le mie colazioni trendy e sane per partire con più gusto e più energia iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto vivi naturale e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri e ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao